Avrà ragione Dario Hubner, oppure hanno ragione Marotta, Maldini e tutti gli amici del canale che vorrebbero vedere tonali con la maglia del Milan? Lo scopriremo solo vivendo, naturalmente, come avrebbe detto Lucio Battisti. Ma in ogni caso, stando a quanto riportano i giornali, il Milan starebbe cercando di soffiare all'Inter il centrocampista futuro della Nazionale, naturalmente, per una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. La questione è che, secondo me, il giocatore è stato promesso all'Inter, l'Inter adesso forse sta facendo delle valutazioni perché l'Inter comunque deve anche vendere, non è che può solo comprare, quindi anche loro, dal punto di vista del mercato, stanno facendo dei calcoli e delle operazioni e magari noi stiamo cercando di inserirci per il giocatore. Un giocatore che sicuramente è un prospetto interessantissimo, a me piace molto, è un giocatore che può completare un pacchetto di centrocampo molto competitivo, come quello che abbiamo, in ogni caso si tratterebbe anche di un investimento importante per il Milan, però, attenzione, in questo caso dobbiamo fare un ragionamento un po' particolare per quello che potrebbe essere il mercato, e cioè, io credo che le valutazioni adesso stiano un po' cambiando da un punto di vista di indirizzo, mentre prima, in tutti questi mesi, pensando che si sarebbe messo in piedi un progetto diverso, con un allenatore diverso, con caratteristiche diverse e richieste, adesso che c'è un pensiero di consolidamento di quello che stiamo vedendo, può essere anche che in realtà il budget a disposizione per il mercato venga investito non in tanti piccoli pezzi, ma magari in qualche pezzo importante per cercare di far fare alla squadra quel salto di qualità, quel passaggio in più per permetterci di andare a competere per il quarto posto. Questa potrebbe essere un'idea e questa potrebbe essere l'idea anche alla base dei nomi che sentiamo in questi giorni, quindi vari Milenkovic, 30 milioni di euro, Tonali, 35 milioni di euro, e così discorrendo. In ogni caso vedremo che cosa accadrà, io dico la verità, la mia sensazione da quello che ho letto, da quello che ho potuto così un po' percepire, è che Tonali andrà all'Inter, ma in ogni caso, siccome sui giornali, come ho detto, si continua a parlarne, vediamo che cosa succede. Può essere anche che in realtà ci sia ancora una trattativa aperta per il ragazzo, che è retrocesso con il Brescia, ma che sicuramente ha davanti a sé una carriera luminosa, che che ne dica Dario Hubner. In ogni caso, oggi Mediaset fa un po' riepilogo di quelli che sono gli obiettivi di mercato del Milan, presunti naturalmente, perché poi manca anche poco, quindi tra poco cominceremo già a capire quale sarà l'andazzo della nostra stagione, ma prossima. Comunque si parla sempre di soliti del, ormai, Mark Roca, del giocatore, del centrocampista Mark Roca, di Miranchuk, che potrebbe rientrare nell'affare di Laxalt, che va in Russia, Emerson, il difensore del Barcellona, che piace molto a Maldini, e che Maldini ha puntato come elemento per la fascia destra, con naturalmente un Calabria in uscita. E poi in attacco il nome di Luka Jovic, questi sono i classici nomi che abbiamo fatto in tutti questi mesi. Poi c'è, come vi dicevo, Milenkovic, c'è Fofana, che tra l'altro ha giocato, non so se l'avete visto, ha giocato una buonissima partita nella finale di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain. Un ritorno di fiamma si scrive in questione per Todiboh, il difensore che ha giocato l'ultima stagione allo Schalke 04, nome che non mi fa entusiasmare per quello che ho visto fare allo Schalke, tanti errori, devo dire la verità tanti errori, in una difesa principalmente a tre, e poi il nome di Ayer, il norvegese. Insomma, vedete che gira e volta, questi sono sempre i nomi che si fanno. Tra l'altro, poi, da un punto di vista difensivo, faremo delle valutazioni anche nuovi tifosi nelle ultime due partite, perché Gabbia giocherà sicuramente titolare, e allora lì ci sarà da capire se il ragazzo potrà essere considerabile come un titolare il prossimo anno, in caso di necessità, naturalmente, e quindi la coppia titolare sarà Kier-Romagnoli, con Gabbia magari pronto a, pian piano, anche prendere il posto di Simon Kier. Insomma, cercheremo di capire un po' quale sarà il progresso di questo ragazzo, e come anche la dirigenza e l'allenatore lo valuteranno. Sicuramente quello che abbiamo visto con l'Atalanta è confortante, aspettiamo mercoledì la verifica a Genova, e poi l'ultima parita col Cagliari. Non sono due partite estremamente probanti per la forza dell'avversario, ma comunque potremo avere degli spunti anche in questo senso. Oggi si è tornato a fare il nome di Thiago Silva, Thiago Silva che lascerà probabilmente il Paris Saint-Germain, probabilmente perché le parole di Tuchel ultimamente hanno lasciato anche uno spiraglio per un possibile rinnovo di un anno, ma diciamo che l'idea è quella di lasciare il Paris Saint-Germain. Io non credo che sia un obiettivo del Milan, perché è già stato fermato Kier, è già stato preso Kier, è riscattato, quindi lui sarà il difensore, come dire, di esperienza del Milan, e se si farà un'operazione in quel reparto, io credo che Milenkovic sia un nome spendibile, se si trova la formula, naturalmente, se magari si mette Pacchetana nell'affare. Chiaro che il Milan difficilmente andrà a spendere 30 milioni per Milenkovic, ma magari è una richiesta esplicita dell'allenatore che l'ho avuto a Firenze, che lo conosce, ed è un giocatore che tra l'altro può fare anche il terzino destro all'occorrenza, lui che è un difensore centrale, è giovane, sicuramente di prospettiva. Prima di parlare di quelli che abbiamo e del loro futuro, vi do una comunicazione di servizio importantissima. Vi ricorderete sicuramente di Alilovic, uno dei colpi di Mirabelli prima di essere sostituito. Ebbene, Alilovic, che è ancora nostro, ha un contratto in scadenza nel 2021, c'è un interessamento delle ultime ore del Benfica su di lui. Non so quanto, sinceramente, potremo farci, ma in ogni caso, vedremo. Vedremo anche la situazione di Reina, che questa sera si è salvato con la Stonevilla, mentre il Watford dei Pozzo, qui di Unia, è retrocesso, e quindi magari adesso chi lo sa che la famiglia Pozzo non torni a dedicare un po' più di attenzione alla squadra qui, alla squadra ferulana. Riguardo all'Udinese, mi avete chiesto di De Paul. Allora, Rodrigo De Paul è sicuramente una mezzalla molto interessante. Potrebbe essere, magari così, idealmente, il sostituto di Jack Bonaventura, il quale, tra l'altro, non si sa se rinnova o se va via. Però è chiaro che qual è l'ostacolo? Il grosso ostacolo è la cifra che i Pozzo chiedono, perché se anche lì devi spendere 30-35 milioni di euro per un buon giocatore, ma non è un giocatore che fa la differenza, è un giocatore molto discontinuo, è sicuramente un elemento, come dire, che ci potrebbe aiutare nei ricambi, a centrocampo. È un giocatore, ripeto, che si sta trasformando sempre di più in mezzala. Ha iniziato in nazionale questo processo di adattamento al nuovo ruolo, poi ha proseguito a farlo anche nell'Udinese, naturalmente è una mezzala molto tecnica, anche abbastanza veloce, insomma, che quando è in giornata buona può fare delle cose buone, quando è in giornata negativa fa più danni che altro. Ed è un po' lo stesso discorso di Fofanà dell'Udinese. Sierco Fofanà, giocatore che veramente ha un bipolarismo calcistico inaudito, perché nelle giornate buone spacca la partita in due e nelle giornate negative, che sono più di quelle buone, è solamente un peso e fa anche danni. Quindi, attenzione, attenzione a questo tipo di giocatori. Veniamo alla situazione dei contratti in essere, di chi va, chi resta e chi spera ancora. Allora, la situazione naturalmente è appesa a due giocatori che, secondo me, hanno la volontà di rimanere entrambi. Su Donnarumma lo sapevamo, su Ibra credo che si stia arrivando a una trattativa da un punto di vista economico. Per quello che riguarda Ibrahimovic e Milan vorrebbero offrire di 4 milioni di euro, per la prossima stagione, a fronte di una richiesta, parrebbe, stando poi a quelle che sono le fonti giornalistiche, da 6 milioni di euro, che è la stessa cifra patuita l'ultima volta, e Ibra, insomma, ci sta pensando. Credo che, siccome sono cambiate tante cose, come dicevo, può essere anche che il cambiamento che avverrà sarà un giusto cambiamento, cioè inteso come una serie di giocatori a puntellare, una squadra che però nella sua struttura rimane più o meno intatta. Perché? Perché, ad esempio, di che sì si parlava di una cessione e invece adesso che sì rimarrà. Di Ciananoglu si parlava di una cessione, Ciananoglu rimane, Rebic lo vogliamo confermare, Castiglieco sta facendo bene, insomma, quello che ci siamo detti probabilmente rimarrà, grosso modo, tanto rimarrà così. Si andrà a intervenire nei punti dove serve e anche per avere poi dei ricambi, perché Biglia se ne andrà, quindi numericamente dovremo fare un ingresso al centrocampo, c'è la questione di Pachetà da capire, c'è la questione di Buonaventura, che nelle ultime ore si dice, insomma, che potrebbe persino rinnovare con il Milan. Io non sarei molto d'accordo, perché ve l'ho già spiegato perché, ma in ogni caso staremo a vedere. Chiaro che, come dire, se per la prossima stagione devo andare a prendere un Pessina, per dirne una, che è sicuramente un giovane interessante, ma comunque non è, come dire, non è un ricambio che può darmi una mano, magari nei 20-25 minuti finali, e allora a quel punto, se devo spendere da altre parti e posso farlo per andare a intervenire pesantemente, pesantemente inteso come valore del giocatore, non pesantemente come quantità, ma come qualità, allora Jack un altro anno magari ce lo potremmo anche tenere. Poi verrà valutata anche la condizione fisica che comunque sembra essere in ripresa nettamente rispetto appena tornato all'infortunio, dove davvero non è rappresentabile. Si parla quindi del discorso Ibra e poi del discorso Donnarumma, il discorso Donnarumma, anche lì Donnarumma rimarrà e rinnoverà, si tratta semplicemente di capire per quanto tempo, come, sperando che la clausola della quale si parla non sia veramente di 30 milioni di euro, perché mi sembra una clausola veramente bassa per un giocatore di questo valore, per un campione di questo valore, quindi speriamo che questa cifra non sia vera, ma non credo che Maldini, Massara, siano degli sproveduti che non pensino a queste cose come facciamo noi, quindi credo che da questo punto di vista possiamo stare abbastanza tranquilli che si troverà la formula giusta. Poi, come vi ho già detto, e come dico sempre, se il prossimo anno centriamo finalmente sta benedetta barra maledetta Champions League, ecco che i 6 milioni di euro e Donnarumma non saranno più un problema. Passate una buona domenica sera, adesso vado a vedere la Roma, Corsa Viola, mi raccomando, cerchiamo di fare, cerchiamo, cara Fiorentina, cerchiamo di fare un risultato stasera importante che freni la Roma, almeno un pareggio, e poi veniremo a parlare con voi per qualcuno di quei bei giocatori che avete. Tra l'altro Pioli ha speso delle parole interessanti dicendo Chiesa, è sicuramente un giocatore fenomenale, ma quello che mi piace molto è Gaetano Castrovilli. Buona domenica sera, like al video, iscrizione e ci sentiamo domani.